Chiaramente questi autobus così piccoli ci aiutano ad entrare in tutte quelle strade nelle quali un mezzo standard avrebbe difficoltà. Eccoci di nuovo qui, siamo nel quartiere di Portuense, oggi vi presentiamo... Beh, prima abbiamo visto anche i lunghi, quindi 18 metri, 20-18 metri che stanno arrivando, anche questi... Siamo in attesa dei 20 autobus da 18 metri, quelli snodabili, quelli molto grandi. Che saranno a breve sulle nostre strade. Fin dal 2019 è l'arrivo dei 227, i 328 che sono completati quest'anno. Quindi devo dire che grazie anche alle nostre aziende, ma soprattutto vedono che grazie anche al loro lavoro l'azienda si sta risanando. Un orgoglio che ovviamente investe un po' tutta la città.